Sì dimmi, i panini che abbiamo sono questi, bufalu, capri, lustichella, camogli, a pelle, figlio a bollo fece una pelle No, l'uscita è di là, l'uscita è di là, quello l'hai pagato, quello l'hai pagato per caso Ok, quello è che vuoi? Questo? No Questo? No, tanto fanno tutti cagare, quale vuoi? Questo Faccio finta di scaldartelo Guarda, così vedi anche te Ok, poi Vuoi avere di caffè, scontrini? Ok Ok, macchiato o senza macchia, come lo vete? Dai, veloci Arrivo subito con il caffè Macchiato o pulito? Dai ragazzi, veloci, un camogli perché vuoi un muffin qua da dieci anni, però se vuoi Zucchero lì a destra, finito che devo sparicchiare che non ho tempo da perdere Dai, grazie Dai, veloci, dai, ragazzi Dai che faccio il caffè Faccio il caffè Allora, quindi, un panino e un caffè Posso aggiungerle una coca così facciamo il menù? Sono 85 euro L'acqua la trova negli espositori, sì Vuole un gratta vince anche, tendere la fortuna Grazie a tutti Grazie a tutti